Lunedì 19 dicembre, buongiorno e ben ritrovati ancora nel nostro spazio dedicato alla lettura dei giornali. Partiamo anche oggi con i titoli nazionali e lo facciamo con il Corriere della Sera. In primo piano inevitabilmente si parla di sport, l'Argentina ha vinto i mondiali 2022 in Qatar, Francia va a K.O. ai rigori e Messi porta l'Argentina sul tetto del mondo. Vediamo proprio la fotonotizia dedicata all'Argentina che alza la Coppa, vediamo invece il Mbappé della Francia deluso e poi quei 139 minuti leggendari, la partita che resterà nella storia e il commento ancora del Corriere della Sera. Si parla poi di manovra, pos, fisco e pensioni si cambia. Il reddito di cittadinanza scende a sette mesi, opzione donna solo per le madri e poi sul cuneo si allarga la platea. Ancora il ministro Giorgetti dice riflettiamo su pagamenti elettronici e poi ci sarà probabilmente una norma salva mutui. Ancora il Qatargate sulla prima pagina del Corriere della Sera dopo l'inchiesta. Nuove regole dell'Unione Europea mentre Doha minaccia lo stop al gas. Infine tra le notizie riportate dal Corriere una che giunge dal Vaticano, la rivelazione di Papa Francesco, mi dimetterò in caso di malattia. Ancora le notizie nazionali, questa volta però attraverso la prima pagina della Repubblica. Qui in primo piano anche si parla di legge di bilancio mutui. Eccuneo la manovra del compromesso, ridotto il reddito di cittadinanza da otto a sette mesi, pensioni minime a 600 euro per gli over 75. E poi il commento di Francesco Manacorda indietro tutta. Anche qui la fotonotizia è dedicata allo sport. Nella leggenda il titolo scelto dalla Repubblica per riferirsi a Leo Messi che lo vediamo appunto mentre bacia la Coppa del Mondo. L'Argentina campione per la terza volta, Francia sconfitta ai rigori 7 a 5. E poi ecco tutti i commenti dedicati alla finale che si è giocata. Lo ricordiamo ieri in Qatar. In particolare Leo Grazias nel nome di Maradona. Più volte infatti è stato fatto il paragone tra i due campioni argentini. E poi anche qui si parla delle conseguenze del Qatargate, la minaccia di Doha all'Unione Europea, forniture di gas in discussione. Taglio basso sulla prima pagina della Repubblica, in fuga dalla scuola 70.000 ragazzi e l'inchiesta del quotidiano. E poi ancora la notizia che giunge dal Vaticano, semi a malo, dimissioni pronte, sono le parole di Papa Francesco. E infine l'addio a Lando Buzanca, nato nel 35 e morto ieri. L'istrione non amato dalla critica, il titolo scelto per il suo ricordo dal quotidiano della Repubblica. Ci spostiamo adesso sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Anche qui in primo piano si sceglie di parlare della vittoria dell'Argentina ai mondiali. Finale da leggenda, titola. Il quotidiano Messi si aggiudica la sfida con Bappé. E poi il calcio più bello è il commento ancora. Nelle pagine sportive a firma di Italo Cucci. Ripartono i lavori. Siamo ora a Bari. Il nodo ferroviario non si perderanno 204 milioni del PNRR. Decreto del Consiglio di Stato non c'è nessun rischio ambientale. Ecco una fotografia dedicata al fatto e poi il commento di Mimo Mazza, i diritti tiranni e il buonsenso. Ancora la Gazzetta, Lecce e le visioni del Sud. Ieri l'incontro in Salento, oggi a Potenza. Parliamo di Parola Mia, una serie di incontri organizzati per i 135 anni del quotidiano. Appulo Lucano. Anche qui si ricorda Lando Buzanca, addio all'attore, il merlo maschio amato dagli italiani e poi lo spazio dedicato alla manovra. C'è l'intesa sul Sud. Salta la norma sui limiti al POS. Il governo proporrà crediti di imposta, accordo bipartisan, sugli incentivi agli investimenti. Ancora le prime pagine dei quotidiani. Ci spostiamo sull'edicola del Sud. Partiamo dalla pagina dedicata alla provincia di Bari. Bari si adegua a tassa di soggiorno e il titolo di apertura dell'edicola del Sud di quest'oggi. A partire dal 2023 l'imposta verrà applicata ai turisti e il sindaco De Caro commenta coinvolgeremo le parti sociali. Ancora le celebrazioni, la veglia di preghiera che si è svolta ieri sera a Bari, la comunità ortodossa festeggia a San Nicola, ma mancano i russi e poi i consigli su come risparmiare in vista del Natale. Festività a peso d'oro, dal pane ai regali sarà la festa dei rincari e il titolo scelto dalla Repubblica. E poi ancora in taglio basso si parla di infrastrutture. Piazza Umberto a Bari rinasce grazie all'arte e alla natura con i laboratori di Isolart. Vediamo le altre notizie riportate dall'edicola del Sud. Teresa Caradonna, PMI al Sud, la sfida è il digitale. Poi ancora il nodo ferroviario, sì ai lavori dal Consiglio di Stato e infine Regione Puglia, TFM Natalizio e Vigilia di Fuoco. Andiamo adesso in Basilicata ancora con l'edicola del Sud. Bennardi dimentica via Don Luigi Sturzo. È il titolo del quotidiano nella sua pagina lucana. I condomini sono stati abbandonati dal Comune di Matera e reclamano risposte concrete. Ancora c'è il piano per abbattere le liste d'attesa e l'annuncio per quanto riguarda la sanità lucana. E infine in taglio basso si parla di sport, in particolare di calcio. Il Matera vince ancora a Fasano, ribalta il risultato e allunga la serie positiva. Continuiamo con la lettura delle notizie. Questa volta però ci spostiamo sui siti con le notizie odierne. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno. Tutti pazzi per lo shopping nell'ultimo weekend prima di Natale. Siamo a Bari, ecco, vediamo una fotografia delle vie del centro. Vediamo via Sparano. Le vie del centro sono state prese d'assalto sin da domenica mattina presto. I baresi però non hanno rinunciato alla passeggiata e all'aperitivo nei bar all'aperto. Andiamo ad Apricena nel Foggiano con la cronaca. Il femminicidio di Giovanna Frino, Giovanna uccisa per gelosia. Il post della collega sui social, amica mia, ci rivedremo. E poi ancora incidenti stradali. Il scontro tra auto nel Brindisino avvenuto venerdì sera si è aggravato nel frattempo in bilancio. Il bilancio perché un giovane rimasto inizialmente ferito è morto nelle scorse ore. E poi un altro incidente mortale, questa volta però in Salento, scontro tra moto e Apecar. Muore un motociclista trentenne. Ancora le notizie. Andiamo sulla Repubblica. Anche qui in primo piano si parla di cronaca. Scontro con vittime nel Brindisino. Muore anche il terzo giovane. Era Gabriele Elia che dopo l'incidente era stato trasferito all'ospedale Fazzi di Lecce. La decisione per quanto riguarda il nodo ferroviario di Bari. Il Consiglio di Stato ha sbloccato i lavori. Sospesa l'efficacia dello stop imposto dal TAR e il sindaco della città Antonio De Caro ha commentato speriamo sia la soluzione definitiva. Andiamo a Taranto. Si parla ancora di Exilva. Questa volta intervenire è stato l'arcivescovo Santoro. Scelta tra lavoro e salute è un'ingiustizia, ha detto il vescovo. Le notizie che riguardano la provincia di Bari su Bari Today. Il Natale a Bari quindi si parla del prossimo weekend sarà l'insegna del bel tempo. I meteorologi infatti dicono weekend festivo con il sole. E poi anche qui il nodo ferroviario a sud di Bari via libera ai lavori da parte del Consiglio di Stato. Andiamo a Foggia. La notizia di apertura al via la raccolta differenziata dell'organico per 30.000 abitanti ma ancora rifiuti per terra. Quindi si torna a parlare dell'emergenza rifiuti a Foggia. A parte il servizio sperimentale in alcuni quartieri di Foggia scatta l'ordinanza firmata dai commissari. E poi ancora lo sport che riguarda il capoluogo Dauno di Noia. Entra e segna il Foggia e Spugna a Torre del Greco e risale in classifica. A Lecce ancora impatto fatale tra ape e moto in Salento. Giovane Centauro muore dopo il trasporto in ospedale. Il sinistro si è verificato ieri mattina intorno alle 12 a Torre Suda. Frazione di Racale la vittima era prima stata trasferita in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce e purtroppo poi non c'è stato nulla da fare. Nel Brindisino anche qui la cronaca in primo piano perché anche qui sangue sulle strade, tragico incidente sulla provinciale, è deceduto un altro giovane appunto lo abbiamo detto prima il ventenne Gabriele Elia che versava in condizioni disperate nel reparto di rianimazione del Perrino di Brindisi. Infine le notizie in primo piano in Basilicata si parla di lavoro Stellantis Melfi, la tredicesima per noi soltanto 500 euro. Ebbene con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa e come di consueto vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a rimanere collegati sul nostro canale.